Sono onorato di essere presente e volevo ringraziare loro, perché Piacenza per me è un qualche cosa per il mio paese, perché Piacenza mi ha dato l'onore di partecipare a una delle mie prime che era un fondo per l'estero, che aveva sempre ricevuto con tanto onore, capito? Questo è il discorso che di Piacenza, oggi non potevo mica dirvi no, volevo ringraziare il sindaco, però c'è una cosa di Piacenza, bisogna levare il cappello a tutte le autorità che hanno ottenuto di fare la tappa del tour, che il tour è una cosa unica nella terza tappa di Piacenza-Torino, e questo io mi faccio i complimenti a tutti i dirigenti, a tutte le personalità che hanno ottenuto questo evento, che esisterà nel tempo e la storia, perché mi ingigantisce quello che è l'Italia e Piacenza fa parte dell'Italia. A Piacenza la lega anche la vecchia amicizia al compianto Ginofero, lei a Castel San Giovanni era di casa. Mi scazziamo, io ero di casa, di Stel San Giovanni, di Ginofero e di suo figlio e di sua nuora, perché sono sempre venuto, sono sempre stato quasi un piacentino, capito? Però mi fa onore, alla mia età non potevo dire no, anche se fa male le ginocchia. Grazie.